Gesù, sei tu il Signore della mia vita? Sei tu il Dio in cui confido? Sono queste le domande che oggi ci pone il Vangelo, chiedendo anche risposte vere e responsabili. Quando anche noi dubitiamo di Gesù, dobbiamo ricordare tutti i benefici che da Lui abbiamo ricevuto nella nostra vita e credere più in Dio che nelle nostre forze. Qual è la tua reazione quando sei assalito dai dubbi? Ti chiudi in te stesso o cerchi aiuto? Chiediamo oggi a Dio luce nei momenti bui della nostra vita, quando i dubbi ci assaliranno e ci tormenteranno. Diciamogli, Dio della mia salvezza, in te confido.